La prossima mossa è interna al PD, ci parleremo molto, cercheremo di eliminare tutte le incomprensioni o comunque le distanze che inevitabilmente quando competi si creano. Io pensavo a questi tre impulsioni di essere come in una partita di calcio, quindi ci sono le squadre, le squadre comunque ognuno ha la sua passione, ha il suo giocatore preferito. Però ecco ora ci ricompatteremo, lavoreremo questa settimana sia in Giunta che nel PD e da lì ripartiremo con un calendario con degli obiettivi. Il primo obiettivo è insieme la coalizione, dopodiché finalmente un confronto aperto anche con l'opposizione in cui le differenze di idee, in cui i confronti saranno chiari, saranno definiti proprio da due punti di vista differenti sul mondo e sulla vita. Quanto sarà larga la coalizione? Siamo pronti. Quanto sarà larga la coalizione? Perché insomma si torna a questa, alle dimensioni. Noi potenzialmente potremmo fare una bella coalizione molto larga, perché come si sa nei tempi storici le persone le conosci, ci hai lavorato insieme, e quindi ci sono dialoghi che durano da mesi con varie persone. Chiaramente ci sono poi le tendenze nazionali, dobbiamo vedere qui sul territorio, ora che tutti aspettavano di capire chi uscisse vincitore dalle primarie di ieri. Adesso l'abbiamo capito e quindi io mi metterò a disposizione con un dialogo, diciamo continuo e aperto e poi tireremo la riga di dove si definisce questo campo.